Ora sta cosa, non ci pensava, è una vita. Ma lui, va a vedere nessuno, qualcuno. E' nessuno. Questo piccolo schizzettino, con l'ora dice, ma scusi signorina, posso dire una parola? Lei dice, prego, ma lei dove lavora? Eh, io lavoro in un albergo. Eh, ma qua di notte al molo, vedete quale del tuo, no signore? Sì, sembra che sei per la strada, quando svolgono le interviste. Facciamola così, infatti, facciamola come... Scusami, ti posso dire una parola? Però va bene, adesso è una cosa, una forma di finto attracco per arrivare a dire questa battuta. E come la facciamo? Così, il pretesto è quello... Come devi vedere, me ne devi dire a me, io, come vai tu, vado io. Fammi vedere la luce, vicino a te, vicino a te. Prendi da qua, zoom, zoom, tienilo, tienilo in inquadratura sola. Cambio, sono brutta. Aspetta che stacca, aspetta. Eh, che ne dici? Senza parola. Senza parola, perché questa me l'hai fatta, diciamo, comica. Ma io devo dire che ne dici? Non so che devi dire. L'abbiamo detto prima, tu te lo ricordi? Boh, io non mi piace di trovare. Ma no, io ti ho detto dove lavoro, e tu hai detto come ti trovi. Eh. Io ti ho detto senza parole. Quindi la luce dove arriva, là sotto, cioè a me mi prende mezza luce con lei? Un po', un po'. Se ci mettessimo qua, ti metti un attimo qua. Azione. Scusami, ciao, ma tu dove lavori? Allora, c'è il capire che entra. E che ne dici? Senza parole. No, ma sono senza parole! Come a noi, sono senza parole! Ho avvenuto in grado, io! Dai, dai, una cosa così! Eh, dai, su, dai, non farti pregare, non farei come gli otto! Sono senza parole, sono senza parole! Grande, questa qua devi fare, ma chiede a colpa! Ok, basta, l'ho fatta! Poi Fabio la monta, la mette con quello! Vero Fabio? Eh, sì. Ah, aspetta! Però uno è in diretto, me lo fai dire tu senza parole! Senza parole, dai, dillo, devo averlo detto da me! Senza parole! Sono senza parole, 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 parole! Pensate a quello che stai dicendo, però, che mi dici? Tu che mi dici? Ma a me non mi viene la... E dai, farla così, dai, fammola una! Allora, tu dove li hai messo? Forse per la... Vediamo la luce di qua? Da qui! E però lei può essere mai nonna, no? Ok, azione! Azione, apri! Partito! Ehi, ciao! Come stai? Non ti senti come ti incontravo? Senti, allora, ma un po' non mi ricordo... Dove che lavori tu? Non mi ricordo? Non mi ricordo? Non mi ricordo? Senza parole! Sono senza parole! Vabbè! Io non mi avevo voluto fare la canzone... Come si può dire in francese? Come si dice parole? Non mi avevo voluto fare la canzone... E l'ho fatta prima, poi... Non si vede nulla... Aspetta... Ah, no, non si vede... Deve essere in macchina, con luce... Ah... E' colpa tua e basta! Di più, mi cominci ad incazzare... Perché la prima volta è stata colpa tua, la seconda volta è stata colpa tua, la terza volta è stata colpa tua, quindi vuol dire che è colpa tua. Ora faccio il giro... Ora faccio il giro... Non mi ricordo è stato colpa tua, mai, non ti ho fatto... Ma...